Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa scipito, con che gli si renderà il sapore? Non serve ad altro che ad essere buttato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può stare nascosta una città collocata sopra un monte. Ne si accende una lucerna per riporla sotto il moggio, ma sul candelabro. E fa luce a tutti quelli che sono in casa.